Alessandro D'Angelo, allenatore della Junior del Castellamonte, primi allenamenti, che sensazioni hai? I ragazzi si impegnano molto, lavorano seriamente e penso che con questa squadra possiamo far bene. Vedo gente motivata che ci mette tanto impegno, affronteremo tutto il nostro percorso un passo alla volta senza darci molti obiettivi lunghi e vediamo come va la stagione. Un primo obiettivo, al di là dei risultati, è quello di cercare di creare un gruppo. Sì, la cosa fondamentale è proprio quella di creare un gruppo. Il gruppo in verità c'è già, abbiamo inserito qualche elemento e vedo che si sta amalgamando bene con il resto della squadra. Vedendo questi primi giorni di allenamenti pare che l'entusiasmo non manchi alla tua squadra. No, vedo i ragazzi veramente motivati, per quello ci sono buone prospettive per il futuro e spero di lavorare bene e continuare così. Oltretutto qualcuno orbita già anche nell'ambito della prima squadra. Sì, ci sono dei ragazzi che hanno già assaggiato la prima squadra e continueranno ad andare se si comportano bene e continuano in questo modo qua. Per quanto ti riguarda invece un tuo obiettivo che cerchi di raggiungere al di là proprio del risultato, della classifica? Gli obiettivi, come ho già detto prima, vediamo un passo alla volta. Ci stiamo mettendo un obiettivo piccolo alla volta giusto per raggiungere tutti i traguardi. Adesso un passo alla volta vedremo come andrà la stagione. Comunque lavoro sicuramente non manca. No, no, c'è molto da lavorare, c'è da insembrare bene questa squadra e da fare cose buone durante l'anno. Comunque lavoro sicuramente non manca.